Baffo Rosso, ciao Baffo Rosso e buonasera pure per Peppe, senatore, Peppe, se tu mi ascolti, io oltre ieri ho fatto un messaggino bello e vi volevo sentire tutti in composizione, Peppe, buonasera e 7-3 Peppe, se senti Paoletto, territorio Piemonte, città Alba, della cioccolata, la Gaffa, 47, canale 47, positivo, attenzione, provresso, Radio Razzano, 6 questo canale, cambio, Sto qua Peppe, sto qua, canale 47, Peppe, vedi che io ho capito che stasera moduliamo io e te, ho fatto un messaggino bello l'altro ieri, io capivo, sapevo che stasera facciamo un'appella, bene riascoltato per la prima inapropagazione, per te e per il baffo, avanti Peppe. Sì, ho fatto un'appropagazione, con la speranza che mi ha scorti io li auguro la buona serata, vamo, una gano, la cosa mala.